Grazie alla volontà e al sostegno di molti dirigenti, atleti e tecnici della FIPAV Sicilia, inizia per me una nuova esperienza, quella di consigliere regionale della FIPAV, Federazione Italiana Pallavolo. Certamente un ruolo autorevole, ma anche carico di responsabilità. Il mondo pallavolistico siciliano ha voluto dare un taglio con il passato, ha scelto di dare fiducia ad un presidente, Nino Di Giacomo, e ad una squadra che vuole mettere al primo posto le società, specialmente le più piccole, e che vede la pallavolo come strumento di sviluppo territoriale, come veicolo di inclusione sociale, come strumento di servizio sociale. Per vincere questa partita sarà importante il gioco di squadra tra tutti i giocatori in campo, ognuno con il proprio ruolo, più o meno importante, ma tutti indispensabili. Tutti a lavorare per lo stesso fine, cioè il bene della pallavolo e dei nostri ragazzi. Queste le prime parole di Massimo Di Benedetto dopo l'elezione a consigliere regionale della FIPAV. Il nostro Piero Giunta lo ha intervistato. Sentiamolo ai nostri microfoni. Massimo, auguri e complimenti per la tua elezione a consigliere regionale della Federazione Italiana Pallavolo. Ti aspettano quattro anni di impegno in federazione. La mia prima domanda non può essere che questa, Massimo. Quali sono gli obiettivi della pallavolo siciliana nell'arco di questo quadriennio? È un onore per me andare a ricoprire la carica di consigliere regionale della Federazione Italiana Pallavolo, che ricordo a tutti è la seconda federazione dopo il calcio per importanza in Italia. Quindi è un posto davvero importante con grandi responsabilità. Siamo stati eletti sei consiglieri regionali attorno alla figura del neopresidente Nino Di Giacomo, che per me è la persona giusta, al posto giusto e al momento giusto per rilanciare la pallavolo siciliana. Quali gli obiettivi? Gli obiettivi sono tanti. Ovviamente sono l'impegno che ognuno di noi vuole mettere in campo, mettendo a disposizione degli altri la propria professionalità, la propria passione, la propria esperienza. Innanzitutto io li riassumo in pochi punti, ma che dicono tutto. Primo di tutto lavorare per aiutare le piccole società che sono oggi veramente in difficoltà anche per effetto del Covid ad affrontare l'anno nuovo nel modo migliore possibile. Stare accanto a loro, prenderli per mano e aiutarli a risolvere i problemi. Secondo obiettivo è far fare un salto di qualità al mondo pallavolistico, al mondo dello sport. Non bisogna fermarsi a guardare uno sport come la pallavolo soltanto all'interno di un impianto sportivo, gli allenamenti e le partite. La pallavolo, così come gli altri sport, possono essere uno strumento importante di sviluppo economico, di sviluppo sociale, di sviluppo territoriale, di conoscenza e promozione del territorio. Tante cose che si possono fare soltanto se si ha un modo e una visione diversa di vedere le cose e se si riesce a mettere nero su bianco dei progetti che servono a raggiungere questi obiettivi. Altro punto fondamentale è quello di interloquire, in questo caso a livello regionale, con gli organi e le istituzioni regionali. Perché molte volte i problemi che le società incontrano a livello locale o le piccole società è quello di andare a interloquire, a indiffracciarsi con il famoso muro di gomma, con i dirigenti scolastici che negano le palestre, con i comuni che magari con un appiglio o un altro evitano o non vogliono dare gli impianti sportivi. Il mio impegno è quello di questa nuova giunta regionale, sarà quello di aiutare a risolvere questi problemi dall'alto, magari interloquendo con gli assessorati regionali, con la regione, con gli enti locali, con le istituzioni scolastiche per far sì che ci siano delle regole chiare che non poi siano magari interpretate da il singolo istituto magari o dirigente scolastico locale che perché una società o un presidente gli fa antipatia non gli dà la palestra, non capendo molte volte che quello che le piccole società fanno è un lavoro preziosissimo per l'intera società locale perché toglie i ragazzi dalla strada a costo zero, spesso e volentieri, magari facendo sacrifici. Per queste elezioni a consigliere regionale della Federazione Italiana Pallavolo ci sono dei doverosi ringraziamenti da fare. Massimo, chi vuole ringraziare? I miei ringraziamenti personali vanno intanto a tutte quelle società che nell'ambito territoriale, mi riferisco alle province di Ragusa e Siracusa, che costituiscono il Comitato Territoriale Montiblei, mi hanno proposto a ricoprire questo ruolo. Ovviamente poi il successo finale è stato dovuto e quindi il mio ringraziamento va a tutte quelle società siciliane di qualsiasi anche livello e categoria che hanno messo la croce sul mio nome e hanno fatto in modo che io rientrassi nei sei eletti al Consiglio regionale. Ovviamente un altro ringraziamento speciale va a Nino Di Giacomo, candidato fino a qualche giorno fa, oggi neopresidente regionale delle federazioni di Pallavolo, che mi ha voluto al suo canto e al nostro, parlo di nostro a livello locale, Presidente territoriale Gianni Giordanella che insieme a Di Giacomo ha lavorato affinché questo obiettivo si raggiungesse. Diciamo che è un grazie sinceramente che va a tutti. Io per esperienza personale, avendo fatto politica da anni, so bene che dal momento in cui si è eletto non c'è la persona da ringraziare e la persona da attaccare. In questo caso bisogna lavorare per tutti, perché dobbiamo renderci conto che parliamo di sport, parliamo di una cosa importante in una società di oggi molto difficile, specialmente per i giovani, dove tutti bisogna lavorare assieme l'uno accanto all'altro, ognuno nelle proprie competenze, ognuno nei propri ruoli, ma tutti avendo lo stesso fine, far fare ai ragazzi sport, sport leale, sport corretto e fatto bene. Quindi questo sarà il mio impegno in questo quadriennio in cui rivestirò questa carica di consigliere regionale della FIPAV. Ringrazio Massimo Di Benedetto, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.